Perché tu sei un critico d'arte, uno showman, un ingegnere, un muratore, un ammiraglio, un professore, un canguro. Una copretta molto sana. Predictions della puntata di Tuesday Night NXT parte con uno degli incontri più attesi che è l'NXT Tag Team Championship tra Tony e Stax affronteranno Garza e Carrillo. Di fatto secondo me a confermarsi i campioni saranno gli attuali campioni di fatto di NXT anche perché comunque questa è la loro prima difesa da quando hanno ripreso i titoli. Hanno comunque già perso i titoli recentemente. E poi voglio dire Umberto e Garza come Tag Team non è che abbiano ottenuto chissà che risultati. Se la sono più che altro cantata loro come grande Tag Team ma poi non è che abbiano dimostrato con i fatti chissà cosa. Poi comunque anche per il fatto che nella scorsa puntata a prendersi l'ultima parola sono stati Garza e Carrillo che hanno attaccato i due della Family. Quindi anche per questo penso che perderanno. Ma poi perché io vedo per Garza e Carrillo una possibile unione con Escobar. Quindi un ritorno in questo caso in quel di SmackDown. Passo poi al match riguardante il titolo detenuto da Dominic Mysterio ovvero il Fatal 4-Way match tra Wesley, Cameron Grimes, Bronson Reed e Johnny Gargano. Di fatto se Wesley dovesse vincere questo match contro questi tre membri dei roster principali ovvero Bronson Reed e Gargano che sono di Raw e Cameron che è di SmackDown Wesley otterrà la title shot per il titolo nord americano a NXT Deadline. Di fatto per me a vincere sarà Wesley anche perché penso che tutto questo giro di titolo americano è partito da lui e con lui si riconcluderà questo cerchio con Wesley che riprenderà il suo titolo scrivendo questa volta la storia in questo suo futuro regno come più longevo detentore della cintura nord americana. Di fatto anche perché comunque Bronson Reed, Johnny Gargano e Cameron Grimes da questa vittoria non ne otterrebbero nulla. Sarebbe molto divertente vedere uno scenario del tipo che si fanno schienare apposta da Wesley per mandarlo direttamente contro Dominic perché tipo gli sta sul cavolo visto che tanto Dominic è odiato da mezzo mondo praticamente almeno per quanto riguarda il WWE Universe. che se una charla è abbracarnosa, io me ne vato, io, io.